Tra pochi giorni, per la precisione il prossimo primo dicembre, si apriranno le iscrizioni alla dodicesima edizione della Super Maratona dell'Etna da 0 a 3000, in programma il 9 giugno 2018. Un evento sportivo a carattere internazionale unico nel suo genere. Si tratta infatti della corsa podistica su unico tracciato con il più alto dislivello al mondo. Nella scorsa edizione hanno partecipato 660 atleti provenienti da 26 paesi diversi. In occasione della manifestazione Un Cuore per l'Autismo, svoltasi nei giorni scorsi a Fiume Freddo di Sicilia, ne abbiamo parlato con Carmelo Santoro, presidente dell'Etna Trail ASD di Lingua Glossa, società organizzatrice in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Catania della Super Maratona. Oggi abbiamo avuto il piacere di portare l'arco gonfiabile della Maratona dell'Etna, che si sboggerà il 9 giugno con partenza qui da Fiume Freddo. Siamo presenti per solidarietà e siamo ben felici di portare l'arco gonfiabile qua a Fiume Freddo e, come ripeto ancora, lo troverete il 9 giugno in cima all'Etna. Apriremo le iscrizioni il primo di dicembre. L'anno scorso abbiamo raggiunto i 660 iscritti. Quest'anno punteremo, oramai siamo al full perché abbiamo il numero di iscritti massimo singolo 500 più le staffette, quindi speriamo sempre allo stesso numero. Arriveranno persone da tutto il mondo e come ogni anno sarà una festa. Grazie.